Ciao a tutti, oggi prepareremo il ketchup veloce. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa. Gli ingredienti sono salsa di pomodoro, zucchero, aceto bianco, sale, concentrato di pomodoro e paprika dolce che è facoltativa. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la salsa di pomodoro. il concentrato di pomodoro l'aceto lo zucchero il sale e la paprika dolce che è facoltativa. ed azionare il bimbi per 15 minuti 100 gradi velocità 2 con il cestello al posto del misurino proseguire la cottura per 5 minuti temperatura varoma velocità 2 il ketchup è pronto lasciare raffreddare completamente prima di riporre in frigo il ketchup veloce si conserva in frigo per 7 giorni grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti Grazie a tutti.